Sono trascorsi due mesi e mezzo dalla nuova presidenza del Parco San Rossore, Milarino Massaciuccoli, Fabrizio Manfredi, il presidente è qui accanto a me, due mesi e mezzo di intenso lavoro. Ecco, io vorrei sapere da Manfredi che cosa prevale in lui dopo aver preso visione di tutte le problematiche. Qual è il sentimento principale, non dico paura o preoccupazione, però insomma i problemi sono molti da risolvere. La consapevolezza, ecco, la consapevolezza del fatto che il parco è una cosa molto vasta e molto complessa, che ha una molteplicità di competenze, di ruoli, di funzioni. E l'altro aspetto della consapevolezza è che il parco, pur essendo ormai da tempo costituito prima come consorzio e poi dal 94 come ente, è ancora giovane e deve cioè ancora esprimere compiutamente tutte le sue potenzialità. Ecco, vi sono già state nelle riunioni che avete fatto del Consiglio Direttivo degli input che sono usciti dai componenti che rappresentano i vari comuni che sono cinque e le due province. Sì, i comuni, poi c'è anche l'università, c'è anche il mondo ambientalista. Cioè delle immediate richieste? No, le richieste sono continue, nel senso le richieste e gli addempimenti che quindi un organo dirigente deve, a cui un organo dirigente deve provvedere. No, ci sono quindi questioni di pianificazione che vengono portate avanti, scelte quindi di pianificazione urbanistica. ci sono poi scelte che vanno a irrobustire gli interventi di evacuazione ambientale, di promozione, quelli di conservazione dell'ambiente. È una macchina continua, ecco il parco. Ogni lunedì che si riunisce il Consiglio Direttivo, ogni lunedì pomeriggio, ci sono degli addempimenti da svolgere, insomma, ecco, delle delibere da prendere, delle informazioni da dare, dei dibattiti da svolgere. Ecco, ci sono state anche delle riunioni con i dipendenti, che sono un'ottantina circa, 20 dei quali dipendono dalla Presidenza della Repubblica, no? Sì, sono stati ereditati dal segretariato della Presidenza della Repubblica, essendo la tenuta di San Rossore, era di pertenenza della Repubblica, che dalla Presidenza della Repubblica, dal 2000 è stata passata la Regione, quindi ora poi è gestita direttamente dal parco, e quindi sono stati assorbiti anche i dipendenti che da lì provengono. Sì, è stata un'esperienza positiva questa dell'Assemblea con tutto il personale, che abbiamo fatto subito insediatici, perché secondo me era doveroso per un verso far sì che tutto il personale conoscesse più direttamente il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, e poi si desse il messaggio forte di essere una squadra, una squadra al servizio della collettività, per seguire tutti insieme il progetto della valorizzazione di questo straordinario strumento che è il parco. Ecco, sono circa 24.000 etre, 8.000 mi sembra, dei quali sono di terreno agricolo coltivato da circa 200 aziende, quindi c'è anche un movimento di danaro notevole? No, no, il parco è una cosa grossa, sia in termini territoriali che in termini di soggetti coinvolti, istituzionali, associativi ed imprenditoriali. Infatti una delle sfide da giocare, quando dicevo prima che deve ancora esprimere fino in fondo le sue potenzialità questo parco che è ancora giovane, è proprio quella di fare sistema, cioè di far sì che tutti i soggetti che sono coinvolti nel parco possano avere questo valore aggiunto, essere premiati, fregiarsi di questo valore aggiunto che vuol dire essere all'interno di un parco come questo e quindi riuscire a far sì che tutti i soggetti siano coinvolti nella promozione del parco e quindi delle sue bellezze ambientalistiche ma anche della sua attrattiva economica, sia per quanto riguarda ad esempio i prodotti della terra agrozootecnici, sia per quanto riguarda l'attrattiva turistica. Ecco, in questo caso c'è ancora molto da fare? C'è ancora molto da fare perché il parco ancora, pur essendo da tempo costituito, è entrato un po' di reti promozionali nazionali o internazionali e insomma ritengo che ancora non sia adeguatamente apprezzato per quello che è e quindi i vari soggetti che ne compongono che ne compongono non abbiano ancora avuto i ritorni giusti, adeguati insomma, in termini anche economici, occupazionali, di lavoro. Ecco, io ricordo che un anno e mezzo fa circa, questo un po' allatene, però riguarda sempre il parco, volevo sapere un tuo parere, si parlò con il sindaco Filippeschi di Pisa che era in auge in quel momento il recupero della palazzina di Marconi a Coltano e voleva essere inserita in un ambito fa, insomma, come luogo da preservare e poi è stato tutto un po' sottaciuto. C'è qualche novità? No, no, anche queste cose sia per quanto riguarda il comune che anche per quanto riguarda altri aspetti del parco vanno avanti, devono andare avanti perché, per esempio, una delle missioni che il parco deve svolgere, a cui deve assolvere, ritengo sia quella di essere sempre più un luogo dello studio, della formazione e della ricerca e quindi sia nei centri studi che hanno sede presso San Rossore che c'è il centro studi della Fede del Parchi Nazionale e il gruppo di San Rossore che è un cenacolo di esperti nell'ambito del mondo dei parchi e delle politiche ambientalistiche sia per la presenza delle università così ampia e diffusa e di centri di ricerca di altro tipo come il centro avanzi per la materia agroziotecnica ecco, bisogna far sì che col protagonismo di tutti questi soggetti il parco sia sempre più riconosciuto come un luogo in cui appunto si fa studio, formazione e ricerca sui vari ambiti ecco, perché in effetti mi stai parlato di eccellenze a livello internazionale, anche a livello universitario ma poi per il pubblico in definitiva si sa e non si sa sì, sì, ma è il problema di fondo che attraversa trasversalmente un po' tutti gli aspetti della vita del parco, no? e delle sue attività, delle sue funzioni non è ancora conosciuto dalle nostre popolazioni in primis ma poi quindi dal resto del mondo tutto quello che il parco è, fa e potrebbe ulteriormente fare chiudiamo ora con questo visto che siamo qui a Villa Borbone a pochi chilometri, qua giù c'è la zona estiva che è attestato polemiche c'è stato un po' di subbuglio quest'estate come potrebbe essere risolta dal punto di vista amministrativo la questione anche commerciale dei vari locali? ma dunque, tanto diciamo una cosa che fra l'altro nel parco ci sono 32 chilometri di costa e proprio oggi un membro del consiglio direttivo e il direttore del parco sono in Portogallo a ritirare un riconoscimento ulteriore di natura europea che il nostro parco ha avuto e che si chiama Quality Cost cioè un riconoscimento per essere una delle pezzi di costa europee tra le più pregiate di qualità in Europa per dire quanto il parco è importante e può far ricadere la sua presenza e solo la sua funzione su tutto un territorio e anche su chi in quel territorio opera per quanto riguarda singole specificità qui abbiamo le due marine di Levante e di Torre del Lago nel Comune di Viareggio che sono state realizzate col piano di gestione di prima generazione ora c'è il secondo piano di gestione che è in attuazione e quindi hanno qualificato ulteriormente l'offerta turistico commerciale di queste due porzioni di territorio bisognerà che da questa stagione ci sia una gestione di queste attività commerciali un pochino più rispettosa delle leggi delle normative più sobria ma mi pare che ci siano tutti i presupposti Marina di Levante c'erano già da tempo Marina di Torre del Lago dopo gli eccessi e qualche degenerazione mi pare che ci siano tutte le condizioni perché la Marina possa ripartire con la stagione non gettando via il bambino con l'acqua sporca ma valorizzando ciò che di buono i locali sono e possono fare quindi di carne al fuoco ce n'è in volta allora buon lavoro Fabio Zola grazie